Tutti i fedeli cristiani di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Tutti chiamati alla santità che si raggiunge con la conversione e la penitenza quotidiana. Santità che si realizza con i segni di riconciliazione, la sollecitudine per i poveri, l'esercizio e la difesa della giustizia e del diritto, la correzione fraterna, l'incarnazione delle beatitudini. Possiamo dire che la incarnazione delle beatitudini racchiudo tutto quello che abbiamo detto in precedenza. Abbiamo l'esperienza di vita. Il maestro, meglio, un maestro di spirito, amava la gente comune e sospettava di coloro che emergevano sugli altri ammirati per la loro santità. Un giorno un discepolo gli chiede consiglio sulla donna da sposare. State attenti a quello che dice il maestro di vita. Gli chiede consiglio sulla donna da sposare. Il maestro risponde per un buon matrimonio non sposare una santa. Perché mai? Il maestro sorridente replicò perché è la via certa per fare di te un martire. Chi riferisce in questo episodio è Ravassi, il cardinale, il grande scrittore. La vera santità, infatti, è semplice, quotidiana, tollerante, comprensiva. I puritani, coloro che impongono la loro visione del mondo agli altri con la pazienza e la duttilità, gli integralisti della santità, sono spesso un tormento per chi capita sotto il loro tiro. La santità serena, è mite, è umile, rende facile la convivenza anche a chi è debole o è impuro, portandola alla purificazione senza umiliarlo. La santità è come la bellezza che è affascinante, solo quanto è spontanea e inconsapevole di se stessa. Qual è, allora ci domandiamo, la manifestazione autentica della santità. Orientare verso Dio la propria vita. Ciò può avvenire, attenzione, anche dopo un rifiuto opposto alla sua grazia. Dio ci carica, ci arricchisce di grazia e noi sbagliamo. La santità può derivare anche da questa situazione, diciamo, ibrida, inconcepibile. La santità non consiste nel non essere mai caduto, ma nel proposito di non più cadere. La santità è amore fraterno, cioè significa che il battezzato deve impegnarsi per diminuire il male in se stesso e far crescere il bene e la pace. Davanti a Dio non contano né il prestigio né il successo, ma solo la trasparenza e l'umiltà. San Paolo spiega che la santità è amore fraterno, già che l'amore nasce da Dio. La chiamata alla santità è universale e non presuppone la sapienza, la potenza o la nobiltà. Per chiudere, Padre Pio è un direttore spirituale realista e suggeriva una vita ordinaria, esigeva una pietà concreta, solida e illuminata. Niente grandi penitenze o flagellazioni, ma accettazione delle difficoltà inevitabili, delle sofferenze fisiche e delle angosce morali. Grazie a tutti.